Non vi è dubbio che siamo ancora dentro una sfida non risolta. Come si vede analizzando i numeri che provengono dall'Europa, ma anche da alcuni nostri territori, siamo ancora dentro la sfida e sarebbe un grave errore abbassare la guardia. A dichiararlo è il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del convegno sulle riflessioni sulla pandemia da SARS-CoV-2. Dobbiamo provare a leggere quelli che sono stati questi mesi, la mia opinione personale detta col massimo livello di umiltà e che il nostro paese abbia retto e tenuto. Le istituzioni democratiche a tutti i livelli hanno attraversato nel loro ambito una delle fasi più difficili della nostra storia. Nuovo balzo dei contagi in Italia. Nella lettura dei dati del tradizionale bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.698 in crescita rispetto ai 5.144 registrati nelle 24 ore precedenti. Con 684.710 tamponi processati, il tasso di positività è pari all'1,12%. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono 3.970, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 481 più 6. Nel mese di ottobre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registi in un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3% su base annua. La stima preliminare era più 2,9%. A rivelarlo è l'Istat, l'ulteriore accelerazione su base tendenziale dell'inflazione è in larga parte dovuta anche nel mese di ottobre ai prezzi dei beni energetici sia a quelli della componente regolamentata sia ai prezzi di quella non regolamentata. Le tre figure professionali altamente specializzate più richieste nel panorama del mercato del lavoro per le aziende in Italia operano tutte nell'ambito della cybersicurezza, uno dei settori che può vantare la maggiore espansione negli ultimi anni e che ha visto una notevole accelerazione grazie alla digitalizzazione e purtroppo anche a causa dell'aumento della criminalità online. I professionisti più preziosi per le aziende oggi sono i simulatori di attacchi informatici, gli hacker etici e gli analisti di scenari. Nella penisola il 76% dei datori di lavoro dichiara di avere difficoltà a reperire i lavoratori con le giuste competenze, come mostra la ricerca condotta da Manpower Group. Il rapporto di Clucit sulla sicurezza informatica evidenzia invece una situazione preoccupante a livello mondiale con un passaggio in soli sei mesi dal 49% al 74% degli attacchi hacker che vengono considerati di livello devastante.